Allora, vediamo cosa succede. Mettiamo un piede qua e cominciamo a tastare le maglioni che sono bagnate. Forse è meglio mettere un piede qua, la mano così, la mano così. No, le gemelle vanno accoppiate. Queste si possono alternare quando si sale. Le gemelle bisogna cadere su tutte e due, nello stesso modo. No, ci sono, ci sono. Mi raccomando, bene con i piedi. Sono robe piccoline ma non è duro. È divertente e bello, è un po' tecnico. È bello. E stai tranquillo, eh. Non ti preoccupare. Qua c'è un monodito ma è buono. Sì, magari forse è meglio se rinvio prima. Allora, forse è meglio per il pollice, tra le altre cose. Ci ho ficcato dentro il pollice. Sto spitto inutile. Corda veloce. Guarda, guarda. Guarda, Nico. Guarda, guarda. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.